Inizio chiedendoti la domanda forse più banale, ma anche più interessante forse, quello che hai provato dentro la tua testa in quegli ultimi giri famigerati, se te lo aspettavi, se ci credevi, quando ti sei reso conto, che cosa ti passava per il cervello? Sì, diciamo che per rendermi conto ci ho messo un po', ma innanzitutto stavo rischiando di fare una grossa cavolata, nel senso che quando ho sorpassato Rins pensavo fosse l'ultimo giro, perché a un certo punto mi sono dimenticato di tutto, di quanti giri mancavano, ero come dentro un tunnel e quindi quando l'ho superato pensavo fosse l'ultimo giro, allora sono andato a coprire tutte le ultime curve, a coprirmi dagli attacchi, poi dopo passo sul rettilineo, non ci potevo credere, infatti non era l'ultimo giro, fortunatamente ho continuato a tirare, ho visto L1, ho detto no, ancora un altro giro. Hai rischiato di fare come Kille qualche anno fa? Sì, rischiavo di festeggiare e lui mi avrebbe fregato, invece no, è andata bene perché non ci ho creduto, infatti era vero che mancava un altro giro, poi dopo mi aspettavo comunque un attacco di nuovo lì alla parte veloce e io non mi ero accorto che dopo lui era andato lungo, quindi ho coperto tutte le staccate fino all'ultima curva, però dalla penultima curva mi sono reso conto veramente, ho pensato forse ce l'ho fatta, lì c'è stato un mix di emozioni, di brividi. Cosa avevi di più secondo te in questa gara che non hai avuto fino a questo momento? Secondo me in questa gara abbiamo messo insieme quello che avevamo costruito da un po' di gare, nel senso che ci è mancato un po' di continuità più che altro, sia per le spalle, quando vivevano infortunato, quindi adesso era un po' di gare che avevamo fatto un passo in avanti, ma anche a Bernou eravamo molto competitivi, ma purtroppo è successo che quella brutta caduta dell'FP3 alla mattina ha compromesso tutto. Poi dopo comunque anche a Silverstone eravamo competitivi, ma non sono riuscito a agganciarmi al gruppo di testa, però vedevo che ce n'avevo, quindi sono venuto qua, sono arrivato a Mizzano molto carico, determinato, sapevo che comunque avevo le carti regola per stare con i primi e poi ci ho messo anche di mio, perché per fare, per devo starci sì, ma Rins è comunque scappato via anche a questo punto, ha preso Gianluciati lì e quindi lì ha richiesto uno sforzo un po' superiore, ha anche una guida sopra le righe, un po' incredibile. Certo, il talento l'hai sempre dimostrato, adesso sembra che stai acquisendo anche quella maturità, già un po' si era visto sul finale della scorsa stagione, ma quest'anno sei stato molto più costante, stai imparando molto in queste stagioni. Sì, sto crescendo molto, anche dal finale dell'anno scorso era cresciuto molto, ho imparato molto da questa categoria e quest'anno comunque ha cercato la continuità e anche se a volte purtroppo all'inizio stagione dopo aver saltato la prima gara in Qatar e le difficoltà incontrate comunque ha cercato di essere costante a ridosso delle prime gara posizioni e poi alla fine è arrivata questa vittoria che aspettavo. Senti, Vale ha raccontato che il giorno prima avete fatto un po' tardi, immagino la sera stessa della vittoria a maggior ragione, insomma, avete festeggiato alla grande. Non proprio, sai, perché comunque con Vale l'avevo fatto, siccome lui mi portava un po' indire perché mi diceva che la settimana della gara capitava che magari la maciona fuori così, allora io molte volte andavo a casa oppure succedeva che alle 10 andavo a letto e allora invece quella settimana lì mi sono intrattenuto un po' di più, allora Vale è stato un po' sorpreso, cioè nel senso che ero rimasto un po' più tardi, ma niente di che, però più che altro non è che abbiamo fatto le ore piccole, ma comunque sono rimasto oltre la mezzanotte, quindi era rimasto un po' sorpreso, ho detto guarda, balda che adesso anche nel weekend di gara, no nel weekend, scuso, nella settimana di gara, perché era un martedì, non sbaglio, e niente, dopo domenica sera invece abbiamo festeggiato con la squadra, abbiamo festeggiato col team, con i ragazzi della squadra, con la mia famiglia che mi sono stati a cena, però è calato talmente l'adrenalina a un certo punto che ero distrutto, quindi non ho fatto le ore piccole. Fai troppo il bravo ragazzo evidentemente ancora, che può essere anche un lato positivo, dipende dai punti di vista. Sì, infatti, no, sono diciamo il giusto dai, quello che è, comunque sono molto, mi piace essere, come si dice, preciso, professionista, quello che faccio, però ci sta anche delle volte in cui bisogna un po' divertirsi e lasciarci andare, però comunque preferivo domenica sera, preferivo realizzare il tutto nel letto da solo, più di andare a fare feste. Per renderti conto che non è stato un sogno, che a letto ci andavi dopo, non ti eri appena svegliato. Senti, questa vittoria sui tuoi programmi futuri, adesso visto che l'anno prossimo ovviamente rimani nella stessa squadra, cambia qualche cosa, hai più aspettative adesso? Sì, comunque per l'anno prossimo rimaniamo insieme ancora un anno, con lo stesso team e la stessa squadra, quindi è importante che per una volta avrò la continuità della squadra, non cambierà nessuno, quindi do una continuità già importante e poi sì, quest'anno comunque già il mio obiettivo era quello di stare costantemente nella top five e l'anno prossimo, quest'anno sarà di lavorare ancora in vista dell'anno prossimo, dove comunque l'anno prossimo abbiamo le carte in regola per fare molto bene. Vale ti ha detto qualcosa dopo la vittoria? Sì, sì, sono andato a salutarlo, mi ha fatto i complimenti, mi ha abbracciato, mi ha detto sì, ma pensavo di andare così forte, mi ha detto sì, mi aspettavo di essere competitivo, però magari quando ho visto andare via Rint subito ho detto cavolo, qua non so che ce la faccio, poi come ho visto uno spiraglio di possibilità di andarla riprendere ci ho creduto fino alla fine. È stata la prima volta, credo che ha festeggiato una vittoria di Lorenzo. Si basa dai, Lorenzo non penso, anche se è Lorenzo di nome, però non gli piace, me l'ha anche detto, non gli piace il mio nome. Beh, quello sì, quello lo immagino, meno male che c'hai il soprannome che ti salva. Grazie.